pace cari fratelli e sorelle oggi continueremo la serie sui frutti dello spirito di dio la longanimità e ve analizzeremo cosa è e quanto è importante per il nostro carattere cristiano colossesi capitolo 3 il verso 12 dice rivestitevi dei teneri affetti di compassione e longanimità il termine greco reso longanimità significa letteralmente lunghezza di spirito nella bibbia questo termine tradotto nove volte longanimità una volta essere longanimi tre volte pazienza è una volta esercizio della pazienza sia le espressioni ebraiche che quelle greche tradotte longanimità includono l'idea di pazienza sopportazione e lentezza all'ira in che modo il concetto cristiano di longanimità differiva da quello dei greci del primo secolo la longanimità non era considerata una virtù dai greci del primo secolo per i greci c'era il concetto che il vero uomo doveva vendicarsi per il cristiano il vero uomo è quello che rifiuta di vendicarsi anche quando potrebbe forse i greci consideravano la longanimità un segno di debolezza ma in questo caso come in altri una cosa stolta di dio è più saggia degli uomini è una cosa debole di dio è più forte degli uomini primo corinti capitolo 1 verso 25 gesù fu l'esempio di eccellenza di longanimità quando si infatti molte occasioni si trovò sotto grande pressione e dimostrò uno straordinario autocontrollo di lui era stato profetizzato fu messa le strette e si lasciava affliggere ciò nonostante non apriva la bocca era portato proprio come una pecora a macello e come un agnello che davanti ai suoi tosatori è divenuto muto neanche apriva la bocca isaia capitolo 53 il verso 7 fu un esempio di straordinaria longanimità il suo ministero sulla terra sopportò le domande insidiose dei suoi nemici e gli insulti dei suoi oppositori matteo capitolo 22 i versi da 15 a 46 oppure primo pietro capitolo 2 verso 23 fu paziente con i discepoli anche quando continuavano a litigare su chi fossi più grande marco capitolo 9 versi 33 36 quante volte a noi nel nostro ministero di evangelizzazione ci sono persone che ci fanno domande insidiose i classici tra virgolette nemici eppure dobbiamo avere un forte spirito di longanimità perché dobbiamo testimoniare in modo positivo dell'evangelizzazione oppure quante volte avremmo l'occasione di dover litigare in chiesa ma dobbiamo avere un grande autocontrollo anche i discepoli in un'occasione continuavano a litigare sul fatto su chi era il più grande in che modo altri esempi trassero beneficio della longanimità di gesù l'apostolo paolo non conobbe personalmente il maestro ma dagli esempi del vangelo anche egli fu un esempio di sopportazione e longanimità infatti testimonio ampiamente con le sue prove come modello di gesù primo timotio capitolo 1 i versi 15 e 16 ritornando a gesù egli è stato longane non solo in vita ma anche dopo la morte infatti i messaggi che cristo mandò alle sette congregazioni del della chiesa dell'asia minore mostrano che pur essendo longane si aspettava che fa che facevano progresso anche noi dovremmo avere la stessa attitudine non rimproverare il nostro fratello nostra sorella aspramente duramente ma con pazienza dobbiamo aspettare che manifesti il progresso perché noi siamo solo collaboratori della parola di dio noi buttiamo il seme ma chi fa crescere ricordiamoci sempre che il signore come servitori manifestiamo sempre questa qualità la longanimità la longanimità poi è accompagnato in alcuni versetti dall'amore sono strettamente legati infatti questo lo possiamo vedere in primo corinti capitolo 13 verso 4 l'amore è longanime viene detto in modo espresso e chiaro l'apostolo paolo paragonò la longanimità a altre sante qualità che cristiano dovrebbe indossare dopo che dopo che si sarebbe svestito delle pratiche che caratterizzavano la vecchia personalità colossesi capitolo 3 versi 5 e 10 come letti di dio santi ed amati rivestitevi dei teneri affetti di compassione benignità modestia di mente mitezza longanimità continuatevi a sopportare gli uni gli altri e a perdonarvi liberamente gli uni gli altri se qualcuno ha motivo di lamentarsi contro un altro come il signore vi perdonò liberamente così fate anche voi oltre a tutte queste cose rivestitevi d'amore poiché è un perfetto vincolo di nune vorremmo essere del tutto convinti che la longanimità del signore è saggezza esso opera per la nostra salvezza per quella di coloro che ascoltano ciò che predichiamo insegniamo primo timotio 4 16 coltiviamo il frutto dello spirito amore benignità bontà mitezza e padronanza di sé potremmo essere longanimi con gioia ci sarà più facile vivere in pace sia con i nostri familiari che con i nostri fratelli la longanimità ci aiuterà anche a essere pazienti con i compagni di lavoro di scuole inoltre servirà uno scopo quello di salvare i peccatori e glorificare il dio di longanimità